Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornato Marco Travaglio, vice direttore del Fatto, saggista e a proposito il tuo ultimo libro appena uscito, si chiama Berlus Monti ed è pubblicato da Garzanti. Allora mi viene subito da chiederti se il successo di questo libro sarà determinato più da Berlus o da Monti, cioè dal prefisso o dal suffisso? Io spero che se è successo si può dire sia garantito dalla qualità del libro che raccoglie quelli che mi sono sembrati gli articoli più riusciti che ho scritto sul Fatto Quotidiano negli ultimi due anni, prima quando regnava Berlusconi e poi quando ha cominciato a regnare Monti e quindi c'è anche modo di vedere le analogie e le differenze, forse quando è nato il governo Monti si pensava a qualche differenza in più, a qualche discontinuità in più, in realtà vediamo che a parte alcuni provvedimenti di tipo economico, peraltro in posti da fuori siamo ancora abbastanza nell'era del Cavaliere, quello che sta succedendo sulla RAI e sulla Gcom dimostra che comanda ancora lui, l'unico posto dove comanda è il Parlamento italiano, nel resto del paese è evaporato, però lì dentro ancora ha il suo potere e Monti deve fare i conti. Ecco Monti deve fare i conti, adesso vorrei approfondire con te un po' questo aspetto, perché intanto la fiducia a Mario Monti continua a restare, secondo i sondaggi, ancora piuttosto alta, comunque il doppio rispetto a Berlusconi quando è caduto, quindi gli italiani in ogni caso sembrano apprezzare, continuare ad apprezzare il cambiamento rappresentato da Monti. Beh, intanto avere più consenso del Berlusconi cadente e morente politicamente non è che ci vuole essere un gran che, insomma il governo Berlusconi… Però il 42-45% dopo misure di austerità così severe è una percentuale molto alta. Ma io credo che il principale merito di Monti è di non essere Berlusconi e il principale merito dei suoi ministri è di non essere Brunetta, la Gelmini, Calderoli, è chiaro che se uno guarda i ministri singolarmente presi e li paragona con quelli che c'erano prima, stravincono questi, ma il loro merito è semplicemente non essere quegli altri, dopodiché poi andrebbero giudicati da quello che hanno fatto. Insomma non mi pare che il bilancio sia particolarmente soddisfacente, credo che una delle ragioni per cui il governo ha ancora un consenso che comunque si è molto eroso, negli ultimi due mesi è ormai sotto il 50%, dipende dal fatto che ci si aspettava probabilmente di più, forse anche infondatamente, visto che poi il Parlamento con cui deve fare i conti questo governo è lo stesso di prima, ci si aspettava di più e soprattutto stanno litigando e sparlottando come delle comari. E infatti tu anche oggi hai scritto che questo governo ti ha deluso e i ministri parlano troppo e parlano male, troppo e male, mi spieghi chi sarebbe oggi nelle condizioni di fare meglio di Mario Monti nel nostro paese? Un presidente del Consiglio direttamente espresso da una maggioranza eletta dai cittadini italiani. Quindi saresti d'accordo con Fassina del Partito Democratico che bisognerebbe andare a votare adesso? No, non sono d'accordo con Fassina perché secondo me bisognava andare a votare a novembre quando è caduto Berlusconi. Vabbè, però adesso siamo a giugno e quindi bisogna fare i conti col fatto che siamo a giugno. Adesso sei d'accordo che bisognerebbe andare a votare in autunno? Io credo che fatte quelle due o tre cose che ci chiedeva l'Europa, come almeno così ci hanno detto, poi insomma sulle richieste dell'Europa ci sarebbe molto da raccontare visto che la famosa lettera della BCE eccetera in realtà pare che sia stata scritta in Italia da italiani e che fosse l'assicurazione sulla sopravvivenza del Cavaliere. Ma facciamo finta che ci abbia chiesto l'Europa quello che abbiamo fatto. Insomma, se guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane, in questi ultimi mesi in Europa e non solo, diciamo che ci fosse un'emergenza e che siamo in un'emergenza seria, su questo credo che nessuno abbia detto. Non c'è dubbio, la domanda è se per uscire dall'emergenza la ricetta giusta sia quella che è stata intrapresa o se non ce ne fossero delle altre. Io non lo so, abbiamo i tecnici migliori d'Italia e forse del mondo e quindi immagino che quelle prime misure fossero doverose e richieste dall'Europa. Ma fatte quelle cose lì, a che cosa serve questo governo di qui alle elezioni dell'anno prossimo? Qual è il piano? Che piano hanno? Quali sono le cose che devono fare di qui all'anno prossimo? Allora, ti leggo cosa ha detto Monti a famiglia cristiana, oggi sono uscite l'agenzia di questa intervista, lui spiega perché non interviene su vari argomenti delicati come per esempio quello di dare la cittadinanza ai figli minori di stranieri. Monti dice, ho avuto un mandato per assicurare un rissanamento dell'economia, ci sono questioni d'altro genere che rischiano di determinare conflitti tra le diversissime parti politiche che sostengono il governo. Ecco, questa è una dichiarazione di impotenza o di saggezza in questa situazione, secondo te? Beh, significa fare di necessità virtù, significa prendere atto e ufficializzare il fatto che questa non è una maggioranza, quella che era stata celebrata come la più ampia maggioranza della storia repubblicana e forse anche monarchica, in realtà non è una maggioranza, è un'armata brancaleone dove ci sono dentro partiti che si sono presi a schiaffi fino al giorno prima, che non hanno un punto in comune su nulla se non sulla conservazione della loro poltrona e il terrore delle elezioni perché molti di loro quando si andrà a votare verranno spazzati via dalla lista di Grillo e da altre liste civiche che si stanno preparando e quindi hanno un punto in comune che non c'entra niente con l'omogeneità di una maggioranza che dovrebbe sostenere un governo. Monti sa benissimo che il prossimo anno sarà un anno passato a tirare a campare, Andreottianamente, proprio a fare ciò che lui stesso aveva detto di non voler fare. Lui aveva detto non stiamo qui a tirare a campare, io penso che il prossimo anno lo passerà a tirare a campare. Già sta succedendo, basta vedere ogni volta che deragliano da appunto quei 3-4 provvedimenti di natura economico-finanziaria per avventurarsi nel campo della giustizia, nel campo della lotta all'evasione fiscale, nei campi della scuola, di qualsiasi cosa, risse furibonde mercanteggiamenti miserabili in Parlamento, emendamenti che passano all'insaputa del governo, contro il parere del governo o col governo che si sbaglia o finge di sbagliarsi. È uno spettacolo abbastanza imbarazzante. Pensare di ripeterlo per un anno intero, credo che dai tecnici ci si aspettasse qualcosa di più. È più imbarazzante per i tecnici o è più imbarazzante per questo Parlamento? Beh, io direi che è imbarazzante per noi italiani che assistiamo a questo spettacolo di decomposizione di un governo che si era presentato con ben altre pretese e con ben altra baldanza. Ci avevano raccontato che questo era il governo che salvava l'Italia e che addirittura avrebbe cambiato la mentalità degli italiani. Aspetta, però scusami, cerchiamo di fare un ragionamento non demagogico su questo, perché sicuramente c'era un'emergenza che peraltro non è finita e questo sembra chiaro a tutti. Sicuramente nel momento in cui Monti è stato chiamato a formare un governo è perché non c'era in quel momento nessun altro in grado di farlo e in questo momento, questa è una cosa che chiedo a te, perché è chiaro che prendere decisioni impopolari costa politicamente. Chi è che oggi in Italia dei politici, dei partiti politici sarebbe in grado di imporre delle scelte impopolari, secondo te? Ma sai, non confondiamo le misure impopolari con le misure antipopolari. Questo è un governo che ha adottato delle misure antipopolari, non impopolari. Avrebbe potuto mettere una patrimoniale, non la messa, Berlusconi non vuole. Avrebbe potuto rinunciare a alcune spese folli per armamenti, cacciabombardieri, non l'ha fatto. Avrebbe potuto ridurre o ritirare questa ormai incomprensibile missione in Afghanistan, non l'ha fatto. Avrebbe potuto aumentare le pene per l'evasione fiscale, non l'ha fatto. No, ma lo posso però ricordare. È come la Lega che chiede di mandare i soldati per aiutare i terremotati in Emilia, prendendo i soldati e ritirandoli dall'Afghanistan. Noi sappiamo tutti che andare via dall'Afghanistan facciamo parte della Nato, quindi diciamo che non è una cosa che si può e che sicuramente il governo Monti non può. Ci sono altri governi europei che si sono ritirati dalle missioni, potremmo farlo anche noi. Ma facevo degli esempi, devo dire che poi l'uscita della Lega fa il paio con quella del Ministro Severino che vuole mandare i detenuti a ricostruire l'Emilia Romagna. Cioè una regione che avrebbe bisogno di case antisismiche, a chi le fai fare? Ai detenuti? Li fai mettere così un mattone sopra l'altro tanto per ammazzare il tempo. E purtroppo sono queste le uscite che ti fanno cadere le braccia e che ti fanno pensare che un governo che aveva creato delle attese enormi, probabilmente sproporzionate rispetto al paese in cui siamo e al paese che siamo, sta all'improvviso imbarazzando gli italiani. Perché quando si vedono questi ministri uscire con delle sparate così, tanto per finire sui giornali, che non lasciano traccia, l'annunciare cose che non avverranno mai e che peraltro i giornaloni rilanciano con grande enfasi, ogni giorno scopriamo che arriva il merito nella scuola, arrivano i milioni per le imprese, arriva il piano per la crescita. Io sto aspettando di vedere qualcosa di tutto questo annuncio e uno dei motivi per cui questo governo aveva suscitato speranze negli italiani era che si pensava che questi tecnici avrebbero evitato di annunciare cose a vambera. Cioè che avrebbe fatto quello che il Papa ha chiesto domenica. Non fate promesse che non potete mantenere. Mi pare che siamo nel pieno dell'effetto annuncio esattamente come ai tempi dei politici. Allora la domanda è, andiamo avanti così per un anno? Dopodiché mica dipende da me se si va a votare o no. No, no, no. Dico semplicemente che... Tu pensi che sarebbe meglio andare a votare in autunno? Io penso che sarebbe stato meglio andare a votare nell'autunno scorso. E in questo autunno sarebbe bene o no andare a votare? Ma non lo so, non faccio il politico, non sono in Parlamento. Io ho l'impressione che prima la finiscono con questa agonia e più riescono anche a salvare la reputazione di un personaggio come Monti che se è vero quello che ci hanno raccontato, cioè che è una delle poche persone spendibili che abbiamo a livello internazionale, noi rischiamo di consumarlo, a lasciarlo lì a tirare a campare fino al maggio dell'anno prossimo. Per il momento è confermato che diciamo a livello internazionale è stato ed è sicuramente spendibile. Adesso mi tocca fare un po' la difesa anche d'ufficio, ma rispondimi prima di farti vedere il punto di Paolo Pagliaro. Recentemente io ho letto uno studio dell'Unione Europea la quale dice che per esempio nella lotta all'evasione fiscale il governo Monti ha completamente deluso le attese, quindi anche tutto questo consenso... Si è difficile far pagare le tasse a un paese che da 70 anni le evade o forse anche di più. No, no, io sto dicendoti quello che ha detto l'Unione Europea della lotta all'evasione fiscale del governo Monti. Dopodiché è chiaro che queste cose nei giornali finiscono nascoste, però purtroppo ci sono, ne ha parlato il Financial Times in compenso. Sì, vorrei però chiederti perché non mi hai risposto alla domanda, chi oggi è in grado di prendere delle scelte, di fare delle scelte impopolari? Penso per esempio alla discarica per Roma, non si riesce a trovare un politico eletto che decida. Io credo che le scelte impopolari le possono prendere soltanto dei governi nella pienezza del consenso. Sì, ma nel caso della discarica di Roma, siccome voi del fatto avete fatto una campagna contro quella vicino a Villa Adriana, che era giustissima, ma anche adesso contro quell'altra. Ma dove si deve mettere la discarica per una città come Roma? Una scelta che non è più rinviabile. Bisogna chiederlo alle autorità competenti, sicuramente dovrebbero trovare dei siti un po' meno peggiori, di un patrimonio dell'UNESCO come Villa Adriana. Ma nessuno vuole una discarica, neanche lontana da dove abita, questo è un dato di fatto. Scusa, noi abbiamo eletto dei politici e abbiamo mandato al governo dei tecnici per rispondere a queste domande, dopodiché prendono le decisioni e se ne assumano la responsabilità. Per assumersi la responsabilità di una decisione bisognerebbe dover rendere conto a degli elettori, cosa che a questo governo non è dato di fare perché questo governo non ha elettori. Nessuno sapeva nel 2008 che il suo voto sarebbe stato usato per sostenere questo governo. Ti faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, subito, e poi andiamo in pubblicità. Perché i sondaggi dicono che sono premiati i partiti, i movimenti, liste e antisistema, ma questo non vale per tutti, è molto interessante, guarda.